Allora, recuperiamo un po' del tempo, facciamo qualcosa al limite della fine. Questa mattina abbiamo sentito la parte politica e istituzionale parlare un po' dello sviluppo di questi decreti che mancano. Nell'altra sala si è parlato di regole sulle comunità energetiche e invece qui cerchiamo di fare un altro discorso, ovvero parliamo di quali sono le tecnologie principali che sono utilizzabili e applicabili alle comunità energetiche. Anche se a me questa parola, comunità energetiche, a me è chiarissima, però elettriche, comunità energetiche, elettriche. Sarebbe bello e auspicabile che comunità energetiche si fermasse lì, perché come poi vedrete da una serie di tecnologie che verranno esposte dopo, qui si è perso un po' il concetto dell'altra energia che ci serve, cioè il caldo e il freddo. Magari poi ne parliamo dopo? Prego, prego, no, no, no. Lei è d'accordo, lei è d'accordo. Sono completamente d'accordo. Lei è d'accordo, allora perfetto. Allora, siccome lei mi ha stravolto tutto, il programma manco ce l'ho qua, chiama lei il primo. Allora, Pezzaglia, che qui interviene per il Consorzio Italiano Biogas, esperto di energie rinnovabili, di efficienza energetica, è uno di quelli che ha studiato per primo tutta la vicenda. A te la parola, quindi vai. Grazie. Sono anche reduce del mese della regione Lombardia, del bando delle comunità energetiche, che adesso è stato prorogato sul fil di lana, gli ultimi due giorni, il 31 maggio. Comunque è stato un mese molto impegnativo di lavoro con i comuni sul tema delle comunità energetiche. L'ultima richiesta che ho ricevuto da un comune, dico il nome milanese, è stato ma posso inserire anche un impianto biogas nella comunità energetica? L'ultimissima richiesta. Ovviamente la risposta è stata sì, puoi inserire anche un impianto biogas, un impianto biogas che comunque fa energia elettrica. Noi dovremmo parlare invece anche del gas, in un certo senso, perché, benché sia un argomento abbastanza controverso, in un certo senso, perché quando si parla di gas sembra che si parli quasi del diavolo da questo punto di vista. In realtà, ecco, per definizione stessa di legge la comunità energetica non riguarda solo l'energia rinnovabile, ma guarda anche altre forme di energia. Parliamo di calore, parliamo di gas rinnovabile, sappiamo che a livello europeo c'è in lavorazione la direttiva del gas package, che duplica specularmente le disposizioni sulle chair elettriche per il gas rinnovabile, quindi è uguale, sostituisce energia elettrica con gas rinnovabile, con gas rinnovabile è la stessa identica cosa. Quindi, a conti fatti, diciamo, un impianto biometano, un impianto di digestione anaerobica, sarebbe adeguato per poter entrare in un contesto di comunità energetica. Usa il territorio, certo che sì, è installato sul territorio, certo che sì, i soggetti vedono l'uso che si fa sul territorio e quindi è assolutamente adeguato. Abbiamo esempi già di impianti biogas che oltre a fare biogas, elettricità biogas, fanno calore e lo trasmettono ad alcuni centri di consumo nei comuni vicini, quindi insomma, ci sono i presupposti. Però dobbiamo rilevare una cosa, prima si è parlato di modello tecnologico, e questo è un tema altrettanto importante. Parlando con i gestori di rete, una volta dissi ma perché non facciamo uno studio, quando una volta stavo in autorità, abbiamo fatto, in termini di energia elettrica, uno studio di penetrabilità della fonte rinnovabile a livello di rete di distribuzione, perché abbiamo detto dobbiamo sviluppare, sviluppiamo in maniera diffusa, ma ci sta questa cosa, date le reti che abbiamo, stessa cosa perché non la facciamo sul gas. Sul gas, per poter fare una comunità energetica usando biometano, fondamentalmente, bisognerebbe usare una rete di distribuzione, perché poi devo condividere con i clienti finali. E sorgono alcuni problemi, nel senso che il consumo di gas naturale nei mesi estivi non c'è, quindi la rete di distribuzione non riesce ad accoglierla tutta, quindi bisogna mandarla verso la rete di trasporto. Quindi la rete di distribuzione, la rete di trasporto dovrebbero funzionare in maniera bidirezionale, cosa che in questo momento non accade. E questo è il maggior impedimento, per esempio, per la connessione di impianti di biometano alle reti di distribuzione. Chiaro che se questo potesse avvenire, gioco forza, anche lì per le leggi della fisica, tutto il consumo, o buona parte di quel consumo connesso con la rete di distribuzione sarebbe alimentato biometano. Quale miglior modo per rendere green il nostro sistema gas, anziché partire dall'alto, buona cosa all'idrogeno, di snap, per carità, non dico di quel, ma è già disponibile, abbiamo il biometano che viene prodotto sul territorio, la rete di distribuzione lì potremmo mettercela e far consumare il biometano a tutti quelli connessi, pensiamo di andare a fare l'idrogeno da altre parti per portarlo qua. Secondo me, ecco, sarebbe uno scenario, sarebbe uno scenario assolutamente plausibile e comunque auspicabile il fatto di usare le reti di distribuzione gas per raggiungere i clienti con gas rinnovabile, questo è il primo tema, servono interventi per, l'autorità sta facendo tutto un piano di sperimentazione, ecco, però c'è urgenza che questa bidirezionalità venga, in Francia, ovviamente, ci sono decine di progetti già in corso per rendere questa bidirezionalità tra rete di distribuzione e rete di trasporto operabile, in Italia stiamo vivendo una sperimentazione, sperimentazione che finisce e rischia di finire nel 2026 quando ormai il PNR è già andato, quindi, mi chiedo che bisogno ci sia di sperimentare nel momento in cui ormai questo è un sistema industriale che ormai si può fare e mi dicono i tecnici, non sono un tecnico delle cabine a birri, mi dicono che in sei mesi si installa una cabina a birri, quindi, questo è il primo tema, diciamo, quindi assolutamente sì, il biometano in comunità energetica valgono tutti i temi che io condivido pienamente della finanza, qui potremmo aprire un grandissimo capitolo, insomma, la comunità energetica non è fatta per prendere il modello dell'investitore estero che arriva e si prende i soldi dalla ASOS, ora siamo così, e portarseli via dalla bolletta, è fatta perché i soggetti intervengano loro nell'investimento, però adesso qui apriamo tutto un altro capitolo. Finisco, tutto questo scenario sarebbe bellissimo, se non che, a mio parere, a mio modesto parere, però la scelta, o perlomeno gli indirizzi scellerati, dico così, per dire una parola grossa, di indirizzo tecnologico rischiano di compromettere il percorso. Mi spiego, perché un'Unione Europea deve impedirmi di usare le caldaie a gas a partire da una certa data? Se io in queste caldaie ci metto biometano non va mica bene? No, cioè devo per forza, non dico che la pompa di calore, però la pompa di calore, dati gli edifici che abbiamo al nord, dicembre, gennaio, batti i denti, non è che, fa freddo. Diglielo che non è vero. Dipende dall'edificio che hai, ma l'edificio non è ben isolato, batti i denti. il suo ragionamento è assolutamente corretto, nel senso che è un po' quello che si è vissuto, poi se ne imparerà, credo oggi pomeriggio, sulla direttiva europea dello stop ai motori endotermici 2035. Allora, l'errore di fondo, per me, che di mestiere faccio il tecnico, è non avere una neutralità tecnologica, perché fra dieci anni cosa esce in tecnologia? Tanto. Se guardiamo i dieci anni precedenti, per cui è assolutamente corretto il fine, cioè azzerare il CO2, poi come uno lo fa, ecco, stesso discorso, vale esattamente per l'utilizzo del biometano nelle calde a gas, che ricordo il termine è il 2029. È molto, è molto, è domani insomma. No, perché questo, peraltro, io sono d'accordissimo che per esempio la cucina può andare a piastre induzione, ma va benissimo. Il problema è che togliendo comunque il carico, cioè togliendo il PDR, le reti di distribuzione, la reti di distribuzione è pagata dal carico per disposizioni tariffarie anche europee e non dalla generazione. Quindi, come posso ottenere una rete di distribuzione per tre punti di ingresso e zero punti di uscita? Cioè, è un veicolatore verso la rete di trasporto, ma è chiaro che si perde la sostanza. Quindi, bisognerebbe fare una riflessione su questo percorso che per carità la pompa di calore può essere più efficiente, è assolutamente più efficiente, però, insomma, ecco, c'è un intermedio, no? c'è un intermedio in questo. Oggi ci sono le pompe di calore che non fanno battere i denti, ma è evidente che l'integrazione tra questi due strumenti è fondamentale. Esatto, esatto, quindi questo è un po' il tema fondamentalmente, cioè, considerato che ogni scelta che faccio che determino uno stop e poi dopo non lo riprendo più, cioè non posso chiudere le reti di distribuzione e pensare poi di riutilizzarle quando sarà il momento, cioè le cose non mantenute tecnicamente poi alla fine degradano e quindi non si può, cioè non esiste. Oltremodo, non dimentichiamoci che sono reti pagate. Noi siamo un sistema che ha, come cittadini, investito i propri soldi nelle tariffe per mantenere questo sistema, quindi buttarlo via del tutto probabilmente sarebbe un peccato. Oltremodo, buttarlo via del tutto impedirebbe qualunque ragionamento su una comunità energetica di gas rinnovabile, peraltro, peraltro, perché? Perché i clienti non consumano più gas, quindi si diciamo che il ragionamento diventa anche numericamente un pochino più più complesso perché è noto a tutti che se domani mattina se domani mattina il 5% delle automobili rivendute sono elettriche le cabine non stanno su quindi il gas ha un suo ruolo anche in una periodo di transizione perché altrimenti ci sarebbero i grossi polinomitazioni su elettrico però possiamo dare qualche numero magari i volumi a meno da quello che voi rappresentate di modo che si riesca a capire di che peso reale perché c'è la produzione del biometano allora perché mi infervero tanto sulla rete di distribuzione perché per produrre biometano da digestione anaerobica si utilizzano biomasse acquose liquide comunque con contenuto d'acqua e il trade off di concentrazione delle biomasse perché qualcuno diceva che il problema c'è facciamo degli impiantoni enormi trasportando biomasse ma trasportando biomasse sto trasportando acqua quindi sono inefficiente allora qual è la taglia ottimale di un impianto biometano è quella che fa circa i 500 metri cubi ora che sono corrispondenti circa i 2 megawatt elettrici diciamo il doppio degli impianti che siamo abituati a vedere per le campagne ecco quindi non diventano cose estremamente invasive come visione dell'impianto poi ovviamente bisogna alimentarli ma quindi sicuramente sono impianti che stanno sul territorio quanti ne servono e quanti se ne possono fare quanti ne servono ad espettarietà dipende dove si vuole arrivare però quanti se ne possono fare perché non stiamo parlando di un contesto dove diciamo facciamo tutto biometano e come fai? dove potrebbe arrivare questo mondo? secondo le valutazioni diciamo del CIB ma anche di altri valutatori RSE eccetera c'è quel famoso obiettivo di quegli 8 miliardi potenziale massimo che potrebbe esprimere l'Italia quegli 8 miliardi sono il 10% più del 10% dell'attuale consumo di gas che è corretto che si riduca un po' perché dove piastre induzioni le pompe di calore dove si possono usare il mondo va naturalmente verso una riduzione quindi questi 6-8 miliardi diciamo in un obiettivo di un dimezzamento di un attuale consumo complessivo di gas ci direbbero che quel consumo di gas sarebbe tra il 10 e il 20% coperto da rinnovabile quindi non è tutto per carità è un pezzo poi chi l'ha detto che l'industria che usa gas in questo momento che non ha un'alternativa valida dal punto di vista economico magari tra i 10-15 anni non possa usare anche alternative gas cioè quindi non si sta dicendo che questa discesa appunto non si si ferma e non scende più potrebbe scendere ulteriormente in futuro però dipende molto dall'evoluzione tecnologica e dalla disponibilità economica di questa nuova tecnologia quindi questi un po' sono i numeri quanti impianti consideriamo che noi adesso abbiamo circa 1800 impianti in giro per il nostro sistema di cui almeno la metà potrebbero riconvertire e fare già questo 30-40% di questo potenziale quindi si tratterebbe di costruire 5 migliaia di impianti in più questo è un po' il tema questi sono i numeri cioè non si sta parlando di un di un utilizzo a tappeto di tutta la campagna per il biometano non si sta parlando di riempire ancora in una maniera invasiva il territorio di impianti c'è questo trade off c'è questo raggiungimento di obiettivo di rinnovabilità del sistema metano avrebbe questi numeri fondamentalmente quindi con questi numeri perché se non mi ricordo ma io diciamo gli esistenti nel caso in cui vengano convertiti dovremmo essere sui 4 circa 4 quegli 8 potenziali la riconversione dovrebbe dare un po' meno un po' meno 3 sui 3 ecco questi però sono anche numeri che danno il significato della potenzialità del biometano sia nel discorso tecnologico delle comunità energetiche perché entra a tutto diritto come tecnologia utilizzabile e poi magari lo vediamo dopo perché magari a Roma no ma l'Italia l'onorevole stamattina ci ha detto 70% dei comuni stanno sotto i 5.000 abitanti per cui per come è fatta l'Italia e siccome normalmente questi impianti non stanno in piazza del Duomo ma stanno in zone dove la biomassa necessaria è presente sicuramente il biometano è uno strumento e la digestione anaerobica è una tecnologia ormai iperaffidabile utilizzata con costi certi eccetera eccetera questi numeri però sono anche numeri che aiuterebbero sia il concetto del capacity market del gas perché come ha detto lei non coprono tutto ma possono essere un bel tampone per gestire correttamente la transizione sono d'accordo sono d'accordo va bene ci stiamo d'accordo sono d'accordo senta la ringrazio molto grazie grazie anche per l'anticipazione non vado in Parlamento vado al Ministero peggio cosa siamo lì ci tocca buon lavoro e adesso tocca a Maurizio Marconcini benvenuto grazie a lei pronto sì io sono Maurizio Marconcini mi occupo di energie rinnovabili e assieme diciamo anche alla rete di Ecofuturo sviluppiamo da molto tempo progetti di efficientamento energetico e nell'ottica dell'efficientamento energetico appunto siamo arrivati alle comunità energetiche le comunità energetiche che sono oggetto di discorsi come si è visto in partenza in divenire e tutto perciò io vorrei fare una parentesi non mi addentro in tutto quello che sono le teorie ma in un caso history cioè un esempio per eccellenza quello che sto facendo che stiamo facendo in questo momento e partiamo da un anno fa quando un comune che mi ha dato il permesso anche di dire quale cioè Barberino Tavarnella del Chianti Fiorentino è venuto qui a sentire un po' non le stesse cose ma quello che è il progress cioè come sviluppare le comunità energetiche e il comune appunto con l'amministrazione umanale e per primo il sindaco si è appassionato a questa idea di se di farsi seguire da la nostra filosofia chiamiamola quella di ecofuturo per poter andare a fare un progetto di efficientamento energetico finalizzato alla costruzione di una comunità energetica pertanto da un anno appunto a questa parte vi racconto quello che abbiamo fatto l'amministrazione ha dato un incarico di poter fare uno studio di fattibilità per questo per l'efficientamento energetico finalizzato proprio alla costruzione di una comunità energetica e su questo noi ci siamo diciamo adoperati a fare da primo una investigazione su quelle potevano essere le possibilità del comune di poter andare a efficientare edifici o quant'altro avere degli spazi liberi quegli spazi che purtroppo come si diceva prima sono difficili da trovare perché esistono degli spazi vocati all'efficientamento energetico all'energia rinnovabili ma poi c'è quello diceva l'onore dove costa una un cappello superiore che in questo caso è la sovraintendenza che ti rende poi improbabile andare avanti su quella strada pertanto visto che io avevo un obiettivo molto concreto di arrivare a costruire una comunità energetica entro il 2023 quella soluzione lì l'abbiamo un po' messa da una parte anche se non abbandonata pertanto cosa abbiamo fatto per poter dare diciamo un piano di lavoro con varie riunioni perché poi è questo di che si parla e varie riunioni non vi dico neanche quante abbiamo individuato dei siti comunali soprattutto dei plessi scolastici dove poter iniziare a costruire l'efficientamento energetico a quel punto lì però cosa abbiamo detto se lo dobbiamo finalizzare alla comunità energetica dobbiamo fare qualcosa di più perché come si è detto ancora il decreto attuativo che permette di fare le comunità energetiche con la gabina primaria non c'è ancora sicché noi dobbiamo portare un progetto al comune per una cosa reale e ci siamo adoperati a fare questo a fare due progetti svincolati dalla gabina secondaria perché questo già in Italia è possibile fare la gabina sotto la gabina secondaria allora abbiamo individuato due siti sempre nel plesso di scolastici una nel comune di Barberino e una a Tavarnelle perché sono due comuni annessi sotto la stessa gabina secondaria e abbiamo fatto un impianto da 200 kilowatt cioè quel massimo che permette di fare la comunità energetica e con questa diciamo base di costruzione energetica abbiamo sviluppato cosa? la potenzialità della possibilità di fare l'energia da fonte rinnovabile avere delle utenze che consumano l'energia nella comunità energetica che potrebbe essere costituita e in più abbiamo dato quel valore aggiunto che è la nostra impronta quella di andare a sostituire gli utilizzatori a gas con sistema efficiente elettrici le pompe di calore e in questo caso l'abbiamo fatta anche con pompe di calore geotermiche perché era quello che noi riteniamo per completare il circolo delle nostre diciamo filosofia e missione ecco e con questi due progetti con questi due studi di massima siamo andati a presentarli all'amministrazione l'amministrazione ha ritenuto di interesse portare avanti questi due diciamo progetti separati di comunità energetica pertanto avrebbe messo delle risorse per poi fare un progetto esecutivo e andare in gara per realizzare gli impianti e questo avrebbe già concluso la nostra attività di promoter di comunità energetica e di dare tutte quelle indicazioni per poterla realizzare a questo punto visto che il tempo è passato abbiamo invece dato al comune una possibilità forse quella più diciamo interessante in questo caso quello di poter abbinare a questo progetto un'altra formula una formula che in questo momento è in divenire vale a dire noi abbiamo detto che ancora il decreto autotipo non ce l'abbiamo però molte società e abbiamo individuato una società in cui ci crede in questa possibilità che verrà fuori questo decreto a breve e con questa modalità abbiamo proposto un project financing al comune per realizzare una comunità energetica a quel punto non più spezzettata nelle due gabine secondarie a 200 kilowatt per riunificarla farla una grossa appunto che è 400 kilowatt andare a intercettare il decreto che attuativo quello che verrà e in un discorso di project fare un piano anche temporale per il comune per arrivare alla costruzione della comunità energetica entro dicembre 2023 e con questo obiettivo ci siamo dati un investimento perché l'azienda che fa il project si piglia il rischio di fare un progetto di andare a presentarlo al comune il comune poi lo presenterà con tutte diciamo le modalità di un project che se poi va in porto il cronoprogramma prevede che questa comunità possa essere realizzata entro dicembre 2023 e questo ritengo che sia noi lo riteniamo anche visto che le comunità energetiche hanno questa difficoltà anche una una scommessa forse una provocazione per dire noi ci crediamo più di tutti e investiamo il nostro tempo e anche i nostri soldi per fare questa proposta ecco perché come sappiamo se con un percorso anche di tempo questo decreto attuativo non viene fatto dovremmo rimodulare il progetto con l'efficientamento energetico iniziale che ha sempre una buona dose di investimento perché comunque si parla sempre di fotovoltaico di sostituzione di sistemi a gas con sistemi efficienti e però ha un altro tipo di investimento uno è un investimento che può essere fatto in IPC con un ritorno economico fatto dal risparmio energetico dell'energia dei gas l'altro è con la logica della comunità energetica perché la logica della comunità energetica è molto più ampia perché una volta avviato questo processo a me cosa succede? mi permette di poter aprire uno scenario di adesione di tutti i cittadini del comune di Barberino Tavarnello in questo caso che possano aderire a questa comunità energetica perché è stata avviata e ha tutto uno statuto che prevede qual è la finalità della comunità energetica e qual è la finalità? è che noi si può aderire in tre maniere una comunità energetica come consumatori cioè come semplici consumatori che non fanno nessun tipo di investimento e che tragano un beneficio di risparmio una volta all'anno perché comunque hanno aderito a questa comunità perché una parte della propria energia gli verrà donata dal surplus di energia che io come comunità energetica ho messo a disposizione l'altro può aderire come produttore vale a dire se ho uno spazio e voglio fare un investimento successivo io posso fare questo investimento nella comunità energetica dove io avrò un ritorno economico del mio investimento e potrò portare alla comunità energetica un vantaggio di energie rinnovabili e questo è una possibilità che può fare uno che può fare un investimento nel proprio tetto lo spazio o qualsiasi cosa l'altro è come l'ideale la parola chiave della comunità energetica come prosumer c'era proprio qui anzi Dario Tamburrano che è stato il cognatore di questo termine perciò ci fa anche piacere dirlo prosumer è il classico è il classico diciamo fruitore della comunità energetica perché è il produttore di energia rinnovabile e anche consumatore perciò nella comunità può aderire questo diciamo questa figura qui che avrà un beneficio nel fare l'investimento e un guadagno al vero diciamo il risparmio energetico ecco perciò il mio esempio che vi ho portato qui senza molto semplice però anche ritengo molto funzionale e mi auguro proprio che a Ego Futuro 2024 posso venire qui e darvi tutti i numeri reali di cosa significa aver costruito una comunità energetica ora non voglio dire una delle prime però sicuramente lo sarà magari chiarisco chiarisco per chi anche collegato non è proprio così esperto delle comunità energetiche che il massimo del beneficio lo si ottiene con l'autoconsumo contestuale per cui questo mentre quello di prima era l'utilizzo del biogas per produrre energia qui la tecnologia è il fotovoltaico dove però si va a lavorare sul cambio dei consumi attraverso l'installazione in pompe di calore e quindi per ottenere una riduzione di costo energetico in sostituzione del costo del gas grazie e l'anno prossimo ci fa vedere i numeri i numeri in funzione in funzione in funzione e anche con il sindaco che avrebbe avuto molto piacere venire qui però ha preferito ormai aver fatto un anno di presentazione un anno di transizione e poi l'anno del risultato transizione purtroppo due anni ecco esatto lui correttamente ha fatto la battuta però se ricolleghiamo al discorso di questa mattina appunto di vista politico si usa questa parola politico se non si fanno i decreti si blocca non solo l'attuazione di questi sistemi ma si blocca anche l'innovazione tecnologica perché le imprese fra un po' smettono di investire perché manca il decreto noi segniamo giù lo segniamo buon lavoro grazie Nereo Mariotto benvenuto a lei buongiorno a tutti allora io sono un consulente un consulente in termini in temi di energie rinnovabili e alimentazione tramite tecnologie innovative quello che è il mio lavoro mi porta a avere a che fare con enti pubblici enti locali che hanno l'interesse ad approcciarsi a quello che è le comunità energetiche ma anche alle industrie perché spesso volentieri si dimentica che le comunità energetiche sono una grande opportunità anche per le piccole e medie industrie e per tutti gli attori locali le CER in teoria dovrebbero nascere dal piccolo per sviluppare il piccolo per sviluppare il territorio per dare vita e ottenere energia da quello che c'è presente sul territorio quindi il mio lavoro è quello in prima istanza di andare a identificare che cosa c'è nel territorio analizzare le disponibilità e solitamente andare a fare una mappatura degli asset che sono presenti dal punto di vista dell'ente locale ma anche degli attori che possono essere coinvolti all'interno della comunità energetica non so se sono disponibili nei slide che avevo portato se possiamo farle partire che così veniamo accompagnati anche da qualche immagine arrivano? intanto che arrivano le slide siccome poi hai trovato un concetto che è fondamentale di cui avrei voluto parlare dopo io ma lo fa lui e quindi va benissimo così parlo di meno quando si studiano le comunità energetiche è fondamentale è fondamentale partire da il territorio i suoi problemi e capire come fare a trasformare quelli che possono o sono problemi in risorse credo che quello che vi farà vedere sarà esattamente i problemi possono diventare opportunità l'opportunità è quella che dà la funzionalità del territorio e la trasforma in energia da condividere all'interno della comunità energetica quindi possiamo questa qua è soltanto all'inizio possiamo passare alla pagina successiva quindi una soluzione rapida per partire perché molte volte a parte la confusione che c'è ultimamente in merito delle comunità energetiche quindi faccio anche attività di informazione sui temi delle comunità perché non tutti neanche gli enti e gli amministratori spesso sono coscienti su cosa sia che opportunità sia una comunità energetica quando ho detto prima si procede come prima istanza a fare una mappatura allora qual è la prima indagine da fare è se viene convocato da un ente locale la mappatura degli impianti che ci sono all'interno dell'ente quindi si fa una prima analisi in questo esempio ho messo dei numeri a casa però ovviamente sono giusto per capire il tema la seconda analisi andiamo avanti con le slide è trovare dei partner stabili perché è vero che le comunità energetiche devono lasciare la possibilità di entrare e uscire indipendentemente in forma volontaria a tutti gli aderenti ma è anche il problema di base per gli enti locali nel senso che se uno entra e dopo decide di andare via con un impianto perdono la possibilità di avere il produttore e quindi l'economicità perde di stabilità quindi si va a fare l'analisi degli impianti industriali qui c'è scritto domestici siamo già alla terza slide però la seconda era impianti industriali dove andiamo a fare la mappatura di quelle che sono le realtà locali se hanno già degli impianti sul tetto se possono metterli in condivisione questo perché un'altra chiave delle comunità energetiche è fare partner variato partnership pubblico privato le comunità non devono essere viste come figlie esclusivamente dell'ente locale l'industriale che vuole fare una comunità non deve pensare di avere una propria comunità staccata da tutto quello che lo circonda concetti di benefit corporation piuttosto che B Corp stanno portando gli industriali verso questi concetti deve essere un qualcosa che unisce il territorio che mette in condivisione quindi se c'è un'azienda che ha già un impianto fotovoltaico potrebbe decidere di inserirlo in comunità energetica in modo tale da poter anche ricevere parte degli incentivi o comunque condividere con la popolazione che c'è nei dintorni quindi abbiamo visto che c'è tutta una serie di mappature per ultimi si arriva alla popolazione perché non perché non si voglia coinvolgere la popolazione ma perché prima bisogna imparare a camminare prima di correre quindi coinvolgere tutta la popolazione significa che dobbiamo avere realizzato prima uno zoccolo duro in una posizione stabile senza quella si rischia un po' confusione e quindi è preferibile arrivare in un secondo momento fatto l'esame di quello che è l'asset esistente adesso vedremo quale sarà il nuovo testo del decreto che tornerà da Bruxelles stando a quello che era la prima versione il 30% degli impianti già esistenti può essere inserito all'interno di una comunità energetica un massimo del 30% questo significa che bisogna integrare anche un impianto nuovo di produzione energia quindi siamo riusciti a identificare qual è la potenza necessaria dalla nuova potenza necessaria andiamo avanti questa nuova potenza necessaria abbiamo capito che abbiamo fatto la mappatura di tutti gli impianti di energie rinnovabili ma di fotovoltaico il fotovoltaico è il problema che di notte non produce energia a meno che non usiamo accumulatori rilevanti e con un impatto economico sostanziale l'energia notturna sarà un problema quindi la prima cosa che si consiglia di fare per dare stabilità di fornitura è andare a inserire delle fonti che diano energia anche di notte una possibilità è tramite dei mini biodigestori anaerobici che a differenza dei grandi impianti che siamo abituati a conoscere che sono da un megawatt in su possono essere di dimensioni più contenute quindi con 100 kilowatt che produce all'anno 800.000 kilowattora io posso iniziare a avviare un biodigestore che mi dia energia anche la notte per per un biodigestore è un mini biodigestore sono sufficienti 3.000 5.000 tonnellate annue di materiale organico a differenza dei grandi impianti che occorrono oltre 100.000 tonnellate per cui con 2.000 metri quadri di spazio e 3.000 5.000 tonnellate l'anno il contesto l'impatto anche sul territorio diventa più contenuto questo qui non è un dettaglio da poco perché spesso volentieri quello che è alla base dei comitati del no per i biodigestori sono i trasporti di andata e ritorno del materiale sono l'importare i rifiuti dagli altri comuni e la gente dice non siamo la discarica di nessuno quindi sono impatti rilevanti che spesso trovano l'opposizione da parte della popolazione locale allora un impianto invece più contenuto può essere integrato all'interno dell'isola ecologica all'interno dell'isola ecologica dello stesso comune e quindi possiamo iniziare a pensare a un concetto di piccola comunità un concetto dove ogni singolo borgo ogni singola area comunale ma anche circoscrizione di una grande città abbia il suo impianto di biodigestione da mettere in condivisione con la comunità energetica territoriale perché se noi realizziamo mille punti di produzione possiamo gestirli molto più efficacemente che è un unico punto da gestire in modo diramato quindi si fa la mattatura del territorio si va a vedere se ci sono imprese industrie di trasformazione alimentare con grossi scarti si va a vedere se ci sono allevamenti piuttosto che altre industrie che producono materiale utile questo tipologia di biodigestori può trattare fino a 80 materiali diversi per cui si adegua bene al territorio la parola chiave di questo impianto è adattarsi al territorio e non costringere il territorio ad adattarsi all'impianto che è diverso quindi va bene qui si vede le differenze tra il biodigestore viene chiamato a secco rispetto a quello tradizionale quindi i 2000 metri quadri le 3000 tonnellate annue produce anche altrettanta termica quindi se viene realizzato in prossimità di un edificio che ha bisogno di riscaldamento è possibile utilizzare quella termica per riscaldare impatto odorifero praticamente nulla perché è totalmente sigillato quindi non c'è apertura durante la fermentazione l'odore non esiste a differenza degli impianti tradizionali che hanno i mescelatori che sono particolarmente energivori questo qui non ce li ha al recupero del percolato da sotto e viene rispruzzato sopra per fare una biodigestione migliore l'assenza dei mescolatori aumenta l'efficienza del 10-12% quindi questo è anche un motivo per cui i miscelatori che producono non poco rumore questo impianto senza miscelatori riduce totalmente il rumore ha soltanto il rumore del quello che può essere l'unità ecogenerazione che però può essere totalmente isolata quindi l'attenuamento del rumore è un altro dei plus di questo impianto quando non fosse sufficiente per inserire per avere una produzione abbastanza ampia per inserire i pannelli esistenti allora si può fare un impianto magari più dimensionato di agrovoltaico e questo qua è un esempio di agrovoltaico dove viene realizzato in altezza 4 metri e mezzo può passare sotto la macchina operatrice non crea problemi e non toglie non fa consumo di territorio scusate ma c'ho il fiatone sono troppo veloce sì va bene è caldo è caldo è caldo ecco questo tipologia di impianto può essere utile anche per le aziende agricole perché i pannelli solari di per sé abbassano il il problema di sofferenza idrica quindi si secca meno il terreno la cultura risente meno della sofferenza idrica riduce la necessità idrica del 40% a parità di produzione cosa comporta questo che a fine anno o una maggiore produzione perché prendiamo l'esempio dell'uva l'uva se va in sofferenza idrica ha meno produzione meno tonnellaggio per etero coltivato questo insieme alla possibilità di unire tra le filari dei pannelli posizionare delle reti protettive per riparare i raccolti consente anche una protezione dei raccolti e una sicurezza economica anche per l'imprenditore agricolo e sono motivi per cui anche un imprenditore agricolo potrebbe decidere di entrare in una comunità energetica quindi l'importante è riuscire a spiegare queste cose e far capire che non è l'ente da solo che deve fare una comunità energetica è lente con magari un'industria che vuole investire in un impianto e un imprenditore agricolo che mette a disposizione il terreno dopo alla fine c'era un quadro economico però direi che quello lì era più incentrato sui comuni sotto i 5.000 abitanti per i quali sappiamo che sembrerebbero esserci fondi del PNRR e buona parte di quegli impianti possono essere incentivati tramite questi fondi bene io la ringrazio che avete visto che cominciano un po' in mix delle tecnologie cioè prima era solo il fotovoltaico nella forma più formula più classica cioè i tetti poi solo il biogas adesso abbiamo fotovoltaico in due formule agrifotovoltaico e quello tradizionale e il biogas poi dopo alla fine gli aggiungiamo ancora un altro paio di fonti di produzione così ma è importante far capire che non è solo quello preciso che io sono consulente energetico quindi a me non è una tecnologia che devo sponsorizzare non devo vendere una tecnologia c'è un bilancio ma è un bilancio energetico complessivo che meglio si sposa quella che è l'iniziativa da portare avanti perfetto ringrazio molto grazie a voi a tutti maurizio tortone riello solar tech non è ancora arrivato lo facciamo dopo e allora io oso professore il professor gabbani che ci parla di un'altra fonte buongiorno professore ma la fiorentina eh non c'è male buongiorno dunque parliamo della geotermia che è così tanto per non mettere in chiaro delle cose è l'unica energia che è democratica perché il resto è democratico relativamente perché è democratica è quella che non dipende dal sole cioè tutte le altre tipologie di energie dipendono dal sole il fotovoltaico ovviamente l'eolico mareale tutto ciò che è l'idroelettrico dipende dal sole e il geotermico e il geotermico invece no perché il geotermico sfrutta meglio utilizza non mi piace la parola sfruttare l'energia del sottosuolo dunque la sotto i sei metri cinque o sei metri di profondità in tutti i luoghi del mondo salvo alcune eccezioni che poi guarderemo insomma tipo le zone un po' più fortunate fra virgolette hanno una temperatura fino a cento centocinquanta metri di profondità che è la media annua della temperatura esterna del luogo quindi siamo intorno ai quattordici quindici gradi dipende dove siamo più o meno questa è una fonte di calore inesauribile perché il questa questa possibilità di avere questo termostato infinito che al quale possiamo chiedere e restituire l'energia ci può portare a a una possibilità di poter mettere in sicurezza una temperatura che non sarebbe altrimenti possibile per questo cosa vuol dire vuol dire che io se adopero qualsiasi altra cosa un termostato qualunque sia ho necessità di fornirli una quantità di calore per avere un punto di riferimento qui invece abbiamo questa temperatura che è costante ventiquattro ore l'anno per 365 giorni l'anno quindi la geotermia si parla di 8600 errotte ore di possibilità di utilizzo nessuna fonte energetica c'è questa possibilità ovviamente siamo su rendimenti un po' diversi se noi utilizziamo io sto parlando sempre di geotermia a bassa entarpia cioè a bassa temperatura diciamo insomma entarpia è il termine esatto ma insomma diciamo temperatura si può parlare di temperatura perché la geotermia ha possibilità di avere altre temperature che possono essere utilizzate per produrre energia io con questa che sto parlando ora della bassa entarpia è una temperatura che mi porta ad avere l'utilizzo di scambio di calore su scambiatori che possono poi essere i famosi applicando i principi della termodinamica sono quelli che servono per portare le pompe di calore a una temperatura necessaria al funzionamento però non producono energia elettrica perché siamo su temperature basse e questo però è ubiquitaria questa forma di energia cioè teoricamente noi potremmo dicono una corbelleria ma è vera potremmo buttare via tutte le caldaie che ci sono in giro tutte le fonti energetiche diverse e in ogni singolo posto qui in qualsiasi posto si possa utilizzare noi potremmo avere caldo e freddo continuamente 365 giorni d'anno le pompe di calore sono state inventate secolo precedente quindi non si racconta nulla di nuovo oggi siamo su livelli molto importanti di implementazione di pompe ad alta temperatura perché il problema grosso della della geotermia in questo caso era che eravamo obbligati a utilizzare pavimenti radianti perché le pompe di calore non avevano una una possibilità di elevare questa fonte di calore che io vi ho detto ora a una temperatura sufficiente per mandare i radiatori cioè quindi dovevamo avere un grosso problema di di impiantistica perché evidentemente io dovevo far circolare una temperatura che non era sufficiente apro una una piccola parentesi guardate che in questa situazione le caldaie a condensazione siamo in una situazione simile cioè la caldaia a condensazione funziona con efficienza superiore solo se lavora a non alta temperatura caldaie a condensazione lavorano su temperature che hanno un'efficienza un po' superiore rispetto alle vecchie caldaie ma hanno problemi di portare alcune tipologie di impiantistiche a temperature importanti che possano riuscire a fare un riscaldamento le pompe di calore che non è altro che un frigorifero di alta di alta qualità ovviamente non hanno emissione uno funzionano a corrente possono essere supportate da pannelli fotovoltaici possono essere supportate da accumulo sempre da pannelli fotovoltaici per cui tutto il circuito generale della funzionamento può arrivare ad avere delle rendimenti elevatissimi di efficienza energetica qui si sta parlando di pompe di calore che possano funzionare con la geotermia rendimenti che superano i 6-7 COP quindi vuol dire che ad ogni kilowatt che io elettrico fornisco alla pompa di calore la pompa di calore sempre nel circuito geotermico mi restituisce 6-7 kilowatt termici quindi siamo in una situazione che caldaie quando sono arrivate all'1 se ci arrivano non è facile quella condensazione qui siamo a 7-8 dipende dalla geotermia quindi siamo in una situazione che è veramente eccezionale a livello soprattutto anche perché non abbiamo emissioni la geotermia di step successivo cioè quella che utilizza temperature superiori ai 100 gradi conosciamo tutti che la terra ha un gradiente geotermico naturale se non ci sono anomalie ogni 33 metri aumenta ad un grado in profondità i tedeschi tanto per non fannovi hanno fatto diversi impianti geotermici a media entalpia cioè quindi con temperatura intorno a 100-150 150 gradi di temperatura producendo energia elettrica perché sono andati a 5000 metri di profondità non avevano la geotermia se la sono creata sfruttando la temperatura del sottosuolo queste impianti per esempio tanto per non fare nomi sono impianti che io ho visto a Sauerlack vicino a Monaco ci sono diverse centrali geotermiche a 150 gradi che producono diverse megawatt scusate producono diverse megawatt con una geotermia creata da loro perché hanno sfruttato e utilizzato la temperatura del sottosuolo noi che siamo i padri della geotermia perché la geotermia è nata nel 1904 in Italia ma non vi sto a fare tutto l'escurso sedicone è andata nella situazione tutti conoscono l'arderello insomma tutta la produzione geotermica altre zone sono state utilizzate per trovare fluidi a questa temperatura il fluido non può fare cosa fa il fluido viene utilizzato fino a non molto tempo fa viene utilizzato Tukur dentro le turbine e veniva praticamente esaurito in atmosfera abbattendolo come temperatura e queste turbine lavoravano con un sistema di produzione di energia elettrica e si faceva l'energia elettrica si fa l'energia elettrica questo è funzionato fino ad ora ovviamente con problemi non indifferenti perché alcune zone per esempio l'arderello non ha grandi problemi di emissione di sostanze a parte clima alteranti ma sostanze velenose come c'ha per esempio la zona dell'Amiata e quindi c'è stato necessario di fare abbattisori di fumi sistemi insomma tutti più o meno virtuosi però cosa è stato fatto in Italia ovviamente è stato implementato sistemi di formazione di abbattimento possibilità di abbattere gli incondensabili direttamente nel pozzo cosa vuol dire questo? vuol dire che senza emissione di calore senza emissione di scusate di fumi in atmosfera tutto il circuito sigillato non ha problemi di inquinamento oltre a avere pochi problemi di rumore fra le altre cose ha un rendimento un po' inferiore rispetto a cicli flash che sono quelli vecchio sistema ma si potrebbe fare tranquillamente in tanti posti il problema è che l'Italia ha esportato queste tipologie una come dicevo sono a Sauerlach in Germania ma sono state esportate in vari posti la società che l'ha fatto ne ha fatti fuori dall'Italia l'Italia da noi ad oggi che dal 2010 potremmo farli non è stato fatto un impianto sono state fatte richieste in tutti i modi da tutte le possibilità ci sono degli inghippi grossi a livello normativo a livello ambientale tutto tutto e quindi la geotermia è praticamente la possibilità di fare anche l'energia elettrica e questo potrebbe andare su qualsiasi comunità energetica però ha sicuramente quella che può produrre su edifici nuovi sicuramente ma anche su edifici vecchi perché ora ci sono le pompe di calore doppio stadio che arrivano a 80-90 gradi 80-90 gradi si può tranquillamente far funzionare i vecchi sistemi a radiatore quindi non c'è più scuse ora non ci sono scuse e questa è un'altra tecnologia ancora che come dire come abbiamo visto prima anche con il biometano sia nell'esempio del Cib che di quella valutazione su potenziale della comunità energetica abbiamo il calore quindi comunità energetica non solo comunità energetica e elettrica perché non viviamo solo di elettrico ma viviamo soprattutto di calore e anche di energia elettrica professore lei come al solito è impeccabile quindi io che ti devo dire grazie adesso invece Francesco Lospada e Nino Italiano è uno due uno e qui vediamo una roba nuova nuova completamente diversa da tutto quello che avete ascoltato fino ad oggi benvenuto grazie buongiorno grazie diciamo che l'energia l'energia ha parecchie parecchie spaccettature e molto spesso come abbiamo sentito stamattina bisogna unire le forze perché praticamente molto spesso io dico che per parlare di energia uno deve aver fatto produzione e distribuzione dell'energia altrimenti spesso si dicono delle mezze verità o meglio cioè è vero che noi è comodo quando noi pigiamo l'interruttore l'interruttore della di casa accende la luce ma non basta se noi abbiamo l'impiantino piccolino nostro non è sufficiente quello che è importante io uso un termine il futuro e il passato cioè bisogna capire che perché futuro e passato perché prima della nazionalizzazione dell'energia esistevano quelle che oggi stiamo se riusciamo a fare se la politica non ci consente a farlo le comunità energetiche cosa significa comunità energetiche lo dice la parola comunità deve essere più soggetti ma non soggetti fisici soggetti elettrici soggetti che hanno dei consumi dei consumi trasplanti nell'orario ecco che la comunità ha una valenza maggiore molto molto importante perché in questo modo non abbiamo possiamo avere la produzione locale valorizzare il territorio valorizzare quello che diceva poco fa il collega su sui dei gestori sono tutti sfaccette quello che dice il professore Gabbani ormai è consolidato da da molto cioè praticamente noi abbiamo tanta energia che non riusciamo a sfruttare io adesso vorrei far partire l'immagine di questa mia questa scusate io ho finito di ho finito di lavorare ieri ieri alle undici ho fatto la ripresa alle undici per tanti motivi e questo è l'inizio di un discorso diverso cioè praticamente può partire adesso praticamente questa è una turbina maremotrice questa turbina maremotrice non è un qualcosa che è frutto così questo è frutto di quindici anni di lavoro cioè io ci sto lavorando da parecchi anni ho avuto degli inconvenienti perché prima perché la puoi fermare per favore allora io ho avuto degli inconvenienti perché partivo da un concetto della biella cioè avere ed ero vincolato alla al percorso della biella invece con questo sistema mi svincolo da un discorso altezza dell'onda perché la cremagliera si adatta a qualsiasi tipo di onda è chiaro avrà dei vincoli inferiori e superiori però questo sistema puoi mandarla vai allora questo sistema vedete io adesso non ho avuto il tempo per farlo a mare e ho nella mia jebbia in campagna però cioè quel moto che adesso in questo caso è orizzontale ma deve essere verticale perché è un qualcosa di galleggiante questa galleggia con l'onda di sotto la spinta dell'onda va porta sopra questo galleggiante ai bordi di questo galleggiante ci sono in questo caso una cremagliera però di fatto adesso vi faccio vedere i disegni perché questa è una forma rudimentale di farla possiamo passare i disegni allora così chiudo perché capisco che la giornata è stata abbastanza pesante sui disegni allora guardate questo è un impianto non più con due con due cremagliere ma bensì sei da un lato e sei dall'altro che mi portano tre dinamo da un lato e tre dinamo dall'altro adesso questo sistema vai avanti ecco questa è la parte fissa ancorata ancorata al porto la parte il profilato è il verde è proprio quella è quella ancorata è quella ancorata al porto il rosso è la parte la struttura fissa avanti la prossima ecco questa praticamente oltre alla parte oltre alla parte fissa che è fondamentale perché quella deve reggere però è anche vero che iniziamo a avere anche il il blu il blu è la parte mobile questa è quella che va su e giù quella che va su e giù nei lati abbiamo le le cremagliere le cremagliere sono a differenza di quella di quella che ho realizzato fisicamente le cremagliere sono tre da un lato e tre da un lato e possono avere ipotizziamo di mettere un arinimo banale di mille watt già sono sei sei kilowatt otto mila seicento settanta otto mila settecentosessanta sono le ore di funzionamento diciamo che il il novanta per cento un dieci per cento glielo devono la manutenzione diamogli neanche dieci per cento venti per cento di perdita alle dinamo infatti il calcolo vedete quant'è io vi posso garantire che questa è la rivoluzione la rivoluzione della della produzione di energie elettriche in Italia perché perché questo il mare grazie a Dio è come se fosse il nostro petrolio il l'onda del mare è il nostro petrolio noi la dobbiamo soltanto naturalmente soltanto gestire mi mandi mi mandi l'ultima l'ultima un altro po' di video allora praticamente qua cosa cosa si vede praticamente la cosa fondamentale qual è io ho fatto ho fatto un piccolo calcolo io naturalmente sono un ingegnere faccio anche il professore però di fatto io ho bisogno di capire una una filiera che porta avanti questo discorso perché questo discorso sebbene sembra strano è rivoluzionario è rivoluzionario è ecco ecco è banale è stupida non è granché è una sciocchezza però è una cosa che sta a galla è la nave che sta a galla e quindi diciamo va fatto l'inverto c'è tutta una parte elettrica che non abbiamo problemi a fare va fatto l'altra finizione il sub è il cielo il sub è il cielo con la natura che dà la spinta per me basta così non posso bene grazie potrei 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 continuare altre ore no grazie soprattutto per la passione che si sente la sua passione e da 15 anni che ci lavoro su questo lavoro è da 15 anni bene quindi avete visto un'altra tecnologia ancora adesso dovremmo avere collegato Giovanni Cimini di Western SEO buongiorno a tutti vi sentite? ti sento bene ti sento bene buongiorno allora ti saluto tutti gli amici di Eco Futuro in particolare la nostra guida Fabio Roggiolari e tutto il suo team no? e noi verremo domani diciamo a tutti all'evento e e poi mentre invece venerdì presenteremo il nostro la nostra visione nella nostra tecnologia sulle comunità energetiche diciamo diciamo che questa per quello che ci riguarda come azienda è una è una sfida che abbiamo accolto in maniera diciamo proprio piena diciamo così perché perché è un po' sposa la filosofia che noi abbiamo sempre avuto cioè quella di autoprodurre energia da fonte rinnovabile fare energia nei sistemi off-grid quindi al di fuori delle linee elettriche no? abbiamo avuto tantissime installazioni in tutto il mondo e poi man mano siamo arrivati dentro alle abitazioni contribuendo all'autoproduzione di energia con tutti i nostri sistemi e le nostre tecnologie il l'opportunità di questa rivoluzione dal basso delle comunità energetiche ci insomma ci ci entusiasma tantissimo ecco perché ci abbiamo investito tantissimo tempo tantissime risorse proprio per questo con tutto il team di Eco Futuro da quando ci andammo a Bruxelles nel 2018 quando fu emanato il Red 2 da lì in poi diciamo per noi è stata un'opportunità di conoscere cosa la comunità europea stesse facendo le nuove direttive che appunto contemplavano anche le comunità energetiche certamente è un'opportunità per poter mettere insieme i cittadini e quindi è un po' rivoluzionare diciamo così e questo è il primo punto per salvare l'ambiente tutto quello che questo gruppo tutti gli attori i partner i simpatizzanti del futuro dicono ormai da tantissimo tempo diciamo che un'altra cosa è rilevante che ci troviamo di fronte a una direttiva europea quindi a una legge che poi comunque andrà vista dall'Europa e questo è un altro è un altro un altro eh punto al favore perché come sappiamo in Italia ogni due per tre cambiano le carte in tavola per cui vengono distrutte sistematicamente delle filiere industriali e nel nostro paese da sempre ricordiamo benissimo il il gli anni nel 2011 12 13 quando fu interrotto di colpo il il meccanismo dell'incendivazione ma in Germania e in altri paesi in Spagna andava avanti ecco filiere completamente chiuse chiuse tecnologie chiuse quindi noi ci fidiamo molto poco di quello che fanno questi questi governi ehm grazie a a due persone noi dobbiamo ringraziare tutti che è Dario Tamburano che ho visto prima e noi consideriamo il padre no? in Europa di questa direttiva sulle comunità energetiche e poi di Gianni Pietro Girotto che hanno portato a terra questa direttiva questa direttiva che ora verrà ampliata come sappiamo con il decreto 191 dei decreti attuativi comunque la nostra visione di nella della comunità energetica si basa sulla certezza dei dati sul la bontà di cosa viene installato da chi vengono installate queste comunità per poter dare una progressività diciamo molto competente sapiente di quello che si sta facendo perché io dico sempre che la comunità energetica le comunità energetiche è una parola molto facile da dire comunità facciamo le comunità ok però poi è un po' più difficile diciamo mettere metterle proprio in funzione perché dobbiamo mettere un insieme di cittadini o cittadini più enti locali o cittadini più aziende che non hanno nel codice adegro come sapete tutti l'energia come core business ma allo stesso tempo e anche allo stesso tempo fornire queste tecnologie che siano tecnologie valide devono durare vent'anni perché di questo si tratta che l'asse di tempo della comunità energetica dura vent'anni quindi bisogna mettere insieme questo e in più bisogna lasciare sul terreno la possibilità a tutti i componenti della comunità di avere un referente che sia vicino per qualche primo problema non voglio rubare tanto altro tempo noi lo presenteremo proprio a ECOFuturo venerdì mattina dalle 10 alle 13 tutta la Western Chain come l'abbiamo chiamata tre ore lì nella sala adiacente alla sala Asia d'accordo con Fabio Roggiolani e comunque posso dire che noi l'abbiamo impostata su una tecnologia oltre i prodotti oltre un gruppo di professionisti che aiutano proprio a formare le comunità energetiche nel senso documentale nel senso del business plan in tutti tutti quelli che sono gli aspetti lo statuto che può essere diverso l'uno dall'altro dipende da cosa si vuole fare che ci sentivo prima il caso dei paesi dei paesini che è l'unica possibilità che hanno di trovare energia fuori e buttarla dentro ai centri storici o quant'altro proprio per favorirne diciamo un beneficio diciamo energetico cosa che alcuni comuni come noi seguiamo stanno facendo devo dire per la verità quindi tutta questa parte qui le tecnologie opportune e poi cosa che abbiamo studiato per tantissimo tempo con tantissimi investimenti tutti questi dati di farli transitare sulla sulla tecnologia blockchain la tecnologia blockchain come tutti sapete è un notaio informatico che quindi va a diciamo controllare tutti i dati vengono gestiti vengono monitorati vengono appunto incamerati e dati nei versi server che la tecnologia che la tecnologia prevede questo per far sì che tutti i cittadini abbiano in tasca dal proprio smartphone o sul proprio portale tutti i dati tutto ciò che sta che sta avvenendo e vi compreso anche l'accordo che viene fatto nella comunità stessa cioè quella magari di favorire per la povertà energetica alcune famiglie o comunque quello di fare tutta una serie di combinazioni diverse perché sappiamo benissimo che il GSE andrà a leggere queste queste i dati dei condatori dei consumi però in alcuni casi vanno con diciamo con dei algoritmi e cose statistiche noi diciamo questo lo controlliamo è una sorta di prova del 9 dei dati è una certezza che si dà ai cittadini dei dati di quando in effetti io ho investito e poi quando risparmio come mi verrà erogato in base come prevede la legge all'erogazione dei contributi che aveva dato al referente della comunità che dovrà essere nominato quindi ci sentiamo come posso dire molto pronti per affrontare questa sfida rivoluzionaria e quindi ecco siamo contenti e io sono ottimista credo che quando come sentiamo da tutti voi che partecipate che state in questo mondo da tanto tempo siamo cresciuti nel tempo siamo allargati guardate oggi abbiamo Exco abbiamo tante riviste eccetera eccetera quindi io sono fiducioso che questa rivoluzione sarà inattestabile soprattutto da tutti noi attori che ci dedichiamo a questo da tantissimo tempo quindi io faccio un bocca al lupo a tutti i partecipanti un saluto affettuoso a tutti e dico un'ultima cosa al professor Gabbani che quel poco di energia di cui avrà bisogno per estrapolare il calore o il fresco ne la forniremo noi per salutarlo generosamente grazie Giovanni come ha correttamente ricordato lo presenteranno proprio qui sabato però ci ha dato due elementi che sono fondamentali la comunità energetica è una roba che dura 20 anni e quindi è assolutamente indispensabile avere prodotti tecnologici che hanno la corretta durata rispetto al sistema da una parte dall'altra parte mi piace quando Giovanni lo chiami il notaio elettronico perché è evidente che un'operazione di comunità deve avere la massima trasparenza la condivisione dei dati in tempo reale e la certificazione di tutti questi dati perché altrimenti non funziona e loro vi spiegheranno che cosa hanno lavorato hanno fatto un lavoro enorme io lo conosco ma vi assicuro che è una bella sorpresa grazie Giovanni grazie a voi buon lavoro ciao Giovanni intanto sono rientrato in scena si fa per dire a sciupare per dare la parola a un genio della tecnologia italiana che si chiama Andrea Mariani che concluderà l'intervento ve lo voglio presentare perché Andrea Mariani ha fatto per simpatici 25 anni non sembra ma è giovanissimo no volevo dire si vede chiaramente che è giovane ho sbagliato qualcosa nella comunicazione diversamente c'è un degli errori Giovanni sì buonanotte Andrea Mariani ha fatto 25 anni il seo importante di una grande municipalizzata della valtellina la SECAM prima per i rifiuti e poi per l'acqua noi l'abbiamo sempre se voi vedrete in rete l'almanacco di Ecofuturo un'iniziativa che avevamo iniziato a fare per alcuni anni con Sauro Secci che ci dava una mano e che ci segue oggi da casa perché deve seguire il sito Ecofuturo che se no tutti gli anni finiva che eravamo gli unici a non pubblicare le notizie di Ecofuturo nel sito di Ecologia che è il sito di Ecofuturo e quindi noi l'abbiamo sempre citato come esempio per molti anni non è venuto mai alle nostre iniziative perché non aveva mai niente da fare ovviamente quindi persona con un suo profilo tecnologico che in cui si è sempre confrontato con l'innovazione senza tirarsi indietro anche correndo i rischi dovuti e alla fine dando dei grandi risultati per noi un esempio dallo scorso anno si è liberato di questo impegno grazie a Dio e finalmente per l'Italia è disponibile a muoversi in maniera diversa il motivo per cui l'ha fatto sta scritto nei giornali ed è del tutto evidente che non riguarda la sua incompetenza ma la sua incorruttibilità e la sua onestà intellettuale e di questo anche di questo lo ringraziamo ma lo trovate sulle diciamo e niente oggi è con noi da un anno segue i nostri confronti accetta nonostante che sia una tipologia di orso che non è attaccata in Trentino e tra quelli non cacciabili ma più o meno a questi livelli dette tutte queste cemenze Andrea grazie a te la tua presentazione io nel senso io vorrei far così a parte ah dico scusa l'ultima cosa subito dopo Andrea Mariani c'è un altro presentiamo la premiazione di un altro Andrea Moccia che è il fondatore di Geopop quindi mi raccomando state qui poi c'è Buffet che da quest'anno abbiamo deciso di offrire un pochino per uno non farà male a nessuno direttamente per rimanere insieme prego a te la parola sia chiaro non l'ho pagato cioè probabilmente aveva fatto colazione male gli sono uscite tutte queste parole allora io vorrei fare così beh intanto ti ringrazio perché l'anno scorso mi hai obbligato a venire c'erano 43 gradi sotto un tendone io arrivo dalla Svizzera e volevo morire quest'anno si sta molto meglio eh io volevo usare un pezzo la mia presentazione ma per tirare le conclusioni di questo di questo incontro perché in realtà poi come vedete adesso la facciamo scorrere molto velocemente ma i concetti eh sono già usciti ma credo che siano i concetti fondamentali per eh lo sviluppo di quella che eh è chiaro che è un'enorme opportunità per il nostro sistema paese sia a livello di comunità energetica sia a livello di autoconsumo collettivo vai pure avanti ecco eh sono parole però l'approccio come abbiamo detto prima come ha citato ha esposto anche il mio collega precedentemente eh è fondamentale perché qui si parla di comunità che la comunità energetica faccia parte reale della comunità che non sia una roba esterna che non sia una cosa calata dall'alto che non sia agnostica rispetto a quello che è il contesto dove la andiamo ad applicare e quindi è fondamentale analizzare i territori per trasformare i problemi in risorse perché non c'è solo il fotovoltaico che è certo che è la componente come dire più facile più semplice per mettere in piedi una comunità energetica ma la comunità energetica è anche un momento dove si possono trasformare i problemi in risorse vai avanti grazie per fare questo adesso qua si vede un po' così ma poi su internet ci sono ecco è fondamentale fare lo studio prima con una serie di strumenti che sono strumenti che si usano normalmente nell'analisi tecnica industriale perché se si prende un approccio di questo tipo partendo in modo assoluto dall'individuazione degli obiettivi che ci si pone allora la costruzione della comunità arriva a termine massimizzando le risorse dando il beneficio più alto con la massima trasparenza come abbiamo visto prima con Cimini eccetera eccetera altrimenti diventa un esercizio zoppo e normalmente gli esercizi zoppi durano poco ricordatevi che deve durare 20 anni adesso voglio dire io sfortunatamente o sfortunatamente sono sposato da 26 anni 27 però matrimonio 20 anni sono tanti vai pure avanti grazie ecco questo schemino qua sarebbe quello che andrebbe fatto all'inizio cioè alla partenza in un territorio che cosa abbiamo abbiamo delle fonti primarie le leggete là ma sono state praticamente già citate tutte le biomasse agricole zootecniche l'acqua dell'acquedotto qui parliamo di acquedotti montani che quindi hanno una pressione sfruttabile eccetera eccetera il il foto il sole in tutte le sue forme poi abbiamo delle tecnologie che sono delle tecnologie che oggi sono in Italia iper collaudate iper strutturate non ultima se uscite quando uscite sulla sinistra c'è un bel motore di idrogeno ed è italiano l'ha fatto col signore l'istri e quello lì seduto col peole è lui poi abbiamo dei vettori energetici dei prodotti energetici e degli utilizzi energetici se analizziamo il territorio sotto questi aspetti generali la costruzione l'ingegnerizzazione della comunità energetica porta al massimo del rendimento vai pure avanti vai avanti ancora che tanto sono cose che abbiamo già detto era solo vai vai ecco questo è un esempio che è in atto dove rispetto a quello che ha fatto vedere prima il mio collega c'è una roba in più che è il mini idroelettrico perché qui l'acquedotto rurale lo consente quindi abbiamo riusciamo a sfruttare la pressione dell'acquedotto e quindi la sua energia che altrimenti viene dispersa facendo i caselli di interruzione della pressione oggi ci sono delle turbine che una volta costavano cifre inennarate oggi ci sono turbine mini o picco turbine che consentono senza dover cambiare tutto l'impianto di distribuzione di recuperare gran parte di quell'energia è un esempio che vale come tutti gli altri che avete sentito prima ma è importante tenere a mente che è un mix di tecnologie per un mix di fonti che devono tendere sempre a massimizzare la resa del sistema devono risolvere dei problemi che la comunità dove l'applichiamo a e deve essere fatto nella massima trasparenza condivisione dei dati e il notaio virtuale che non è un dettaglio perché quando si parla di soldi e se la comunità energetica sono 100 soggetti il notaio vi assicuro che è assolutamente importante quindi fatta questa carrellata io insisto sul fatto che no io ho finito no ma io ho finito ma i gesti a me di solito li fai peggio non è ritorno a quello che ho detto all'inizio ricordiamoci tutti quanti che secondo me il vero sviluppo anche dal punto di vista come dire della reale fruibilità delle comunità è la parola energetica oggi si chiamano e sono comunità energetiche elettriche va usato anche il calore perché nella bolletta no c'è l'energia elettrica e c'è il calore che sia gas che sia la legna che sia quello che il diavolo volete voi l'energia elettrica e il calore si combinano come spesa nel momento in cui ci sono le pompe di calore ad esempio negli altri casi invece si sommano per cui il fatto di avere anche l'energia termica da condividere secondo me quella sarebbe la vera svolta di tutto il percorso speriamo che dal punto di vista normativo il professor Gabbani è scettico come lo sono io ma speriamo che qualche che uno ci ascolti Roggio Lani io sono quello che non parla quello che parla sei tu io di solito faccio i conti quindi adesso parla un po' te che allora mi sono un po' distratto mentre parlava Andrea Mariani ma tanto le sue come si dice ricette le conosco nel senso che le conosco positivamente ma quello che mi preme a conclusione di questo confronto poi le conclusioni le facciamo oggi pomeriggio dei vari panel per oggi in questo primo confronto credo si sia dimostrato che con il biometano che potrà essere prodotto in Italia noi potremo garantire la continuità energetica finale a tutte le comunità energetiche italiane cioè in sostanza una comunità energetica costruita a partire dalle energie rinnovabili che sono intermittenti va bene che darà origine fatte poi con le varie soluzioni come ha fatto vedere anche Nereo Mariotto eccetera con le sue soluzioni con le tecnologie delle varie presentazioni cito Nereo perché era uscito anche in quel caso ma la roba che mi hai mandato l'ho studiata prima per cui sapevo bene mi sono permesso di distrarlo allora cerchiamo di capirci poi nel pomeriggio proseguiremo energie rinnovabili quindi intermittenti quindi noi vogliamo queste energie rinnovabili fare anche la riconversione di tutte le caldaie variamente alimentate tra gasolio e metano non dimentichiamoci che in Italia c'è un sacco di gasolio ancora faccio un esempio dell'intera Sardegna una fetta potente della Sicilia e via discorrendo giusto per citare non so Livigno Livigno anche perché glielo regalano ancora Livigno come dire gli imbecilli nazionali regalano danno il gasolio incentivato ai Livignici forse non si chiamano Livignici si chiamano le olimpie rinvernali Milano Cortina 2026 si chiamano Livignaschi ma insomma in realtà perché è importante perché è la sede delle olimpie rinvernali del 2026 quindi andare a gasolio ecco noi ovviamente la soluzione a Livigno ce l'abbiamo gliel'abbiamo proposta alcuni anni fa ci auguriamo che finalmente gli tolgano il gasolio quindi ritornando ora a parte la battuta su Livigno quindi una comunità energetica che va ad energie rinnovabili intermittenti quindi in certi momenti è che va via il sole abbiamo un calo di energia ma quella comunità energetica ha bisogno di mandare avanti le pompe di calore anche se abbiamo fatto efficienza energetica comunque nel complesso aumenteremo la richiesta elettrica mandare avanti l'auto elettrica quelle piccole quelle che mettiamo fuori in visione da oggi ce le avete la mobilità leggera elettrica ma in città ormai ci vuole l'auto elettrica facciamola finita non fuori ne discuteremo poi queste soluzioni tutto elettrico le troviamo sommamente imbecilli scusate per essere molto non polemici e questa e quindi la città nel complesso cucineremo elettrici avrà bisogno di energie elettriciche come facciamo a garantire che quando la rete entra in crisi perché non c'è il sole oppure la richiesta è elevata perché tante come facciamo con un sistema si chiama capacity market diffuso cioè invece di chiedere l'energia alla rete elettrica nazionale noi piazziamo una serie di cogeneratori a metano biometano in futuro va bene o idrogeno misto con i quali nella comunità ascoltatemi è importante perché questa è una rivoluzione che non si fa senza una mobilitazione di gente che lo accapisca va bene e è difficile perché gli ecologisti quando gli dici metano ti piglia una malattia un prurito perché come al solito si viaggia per fittonate invece che per ragionamenti allora invece noi abbiamo bisogno che in quel momento si accendano tutte queste cogenerazioni ad alta efficienza con cui finalmente abbiamo la risposta locale fa bisogno della comunità energetica capite che a quel punto la comunità energetica è davvero autonoma è davvero capace di essere libera e non aver paura di una crisi perché abbiamo tante reti se si interrompe la rete elettrica abbiamo la rete di sotto con cui lavoriamo per scambiare le pompe di calore abbiamo la rete idrica quindi è il trionfo di una strategia che ci può consentire di fare della norma delle comunità energetiche una vera rivoluzione e non scusate ho iniziato prima con questa battuta ma ve la riferisco una tentativo di supercazzola come qualcuno ce la sta facendo vedere con l'idea di ridare in mano ai soliti noti il solito pasticcio ovvero si fa rinnovabile ma non ci guadagna nessuno e noi vogliamo una cosa che come dice Piero Gattoni ci beneficiano tutti vero Roasio spero di essere stato chiaro per trasferire diciamo i duri numeri marianeschi in traduzione simultanea nel senso che molto banalmente oltre che non guadagnarci nessuno quello che è un'ora e mezza che sto qua a dire bisogna trasformare i problemi in risorse quelli che hai citato te non lo fanno sto lavoro cioè i problemi rimangono problemi e se ci sono le risorse ritengono loro grazie 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 a tutti